Bellissima Roberta agli europei dove ha ottenuto l'ottava posizione per cui forza Roberta con questo bel programma. Errore sul primo salto, triplo luzza. Anche il filo d'ingresso in dubbio. E triplo flip dove cade ancora. Dai Roberta. E triplo tolu. Doppio axel in sequenza. Doppio axel in sequenza. Doppio axel in sequenza. And that's the thing I've never invited them in Conceito to work with all I desire They are the illusion They're not the solution they promised to be The answer was here all the time I love you and hope you love me Tripla taluk, doppia taluk And tripla taluk, what a mistake I really like it Forza Doppio azze Il tripla taluk, taluk, semplice It's a ti It's a ti It's a ti It's a ti Peccato, veramente ci dispiace tantissimo per Roberta Rodeghiero, tra l'altro questo libro è bellissimo, l'abbiamo visto stupendo fatto agli europei, un libro che lei ha costruito con Massimo Scali e Barbara Melica, peccato, peccato, lo ricordiamo, lei si allena al sesto Ice Skate con la nostra Franca Bianconi, nel suo team ci sono Rosanna Morante e Walter Rizzo.